di andare in caserma a fare denuncia, io mi oppongo e chiamo la polizia, chiamo la polizia e ho già il telefono, mi risponde la signorina Centralino del 113 e mi viene detto, come io dico, ho problemi con dei carabinieri, dice guarda che la denunziamo per procurare d'allarme, ho detto ma siete tutte matti oggi, ho detto praticamente, mi interessa, ho detto mandatemi una pattuglia di polizia, se c'è da denunciarmi per procurare d'allarme o non procurare d'allarme, poi sono cose che mi prendono le mie responsabilità, io voglio una pattuglia di polizia qua, avviso che ho dei problemi con dei carabinieri, arrivano due poliziotti, i due poliziotti invece di prendersela con i carabinieri, se la prendono con me, nel frattempo il fratello del titolare dell'officina se n'era andato, ho chiuso i cancelli, arriva anche il maresciallo della stazione dei carabinieri di Badia, con le serene spianate, dice venga in caserma, di qua, ho detto io di qua non mi muovo, sono davanti al cancello, il furgone se è dentro voglio sapere per quale motivo non mi è stato consegnato e se è fuori, visto che sono sottoseguerso, per quale motivo questo furgone è sottoseguerso, senza chiave, senza documenti, è fuori. A questo punto chiamo il responsabile dell'officina, l'automobile, gli spiego la situazione e mi dice che sta provvedendo a inviarmi gli avvocati dell'officina, quando dico così praticamente dopo dieci minuti arriva il titolare di questa officina che aveva in consegna il furgone, dice qual è il problema? Dice il furgone è qui dentro, mi consegna il furgone, loro tranquillamente, i carabinieri e i poliziari, come se nulla fosse, prendo questo furgone e finalmente lo porto. Tra l'altro le chiavi c'erano solo lei, perché tu quando sei stato ritrovato, dopo questo ipotetico furto, era senza chiave, era senza chiavi, lei aveva la chiave di riserva e quindi questo mezzo dov'è, ma perché? Cioè non si era spiegato anche perché non gliel'hanno voluto dare? Secondo me è stato fatto di proposito per mettermi in contatto con questi personaggi dei servizi segreti, perché sapevano praticamente che quando io avevo fatto dei volantine a settembre del 2007, perché io subivo minacce, prestazioni e quant'altro e queste minacce praticamente erano fatte sempre che nessuno le vedeva o comunque anche se c'era qualcuno praticamente nessuno avrebbe testimoniato ciò, le ho messe pubbliche, ho detto che tutti mi minacciano, tutti di qua, tutti di là e se praticamente queste minacce farò denuncia alle autorità competenti, tutte le autorità della legge possono sistemare quello che Poste Italiane o l'Appartanto o il sindacato all'interno dei Poste Italiane non voleva sistemare. Bene, quindi questo è un altro episodio, poi ecco come prosegue la vicenda? Continuano questi tentativi di boicottaggio in modo da poter continuare a foraggiare così? Praticamente io mi ritrovo a mese di settembre a chiedere un incontro con il direttore del Treveneto, chiedo un incontro con il direttore del Treveneto all'Appartante, mando una lettera sia all'Appartante sia al sindacato dicendo che chiedo un incontro così per mettere fine a tutte queste problematiche che c'è tra ditte Appartante, tra operatori di Poste Italiane e tutti gli uffici postali, in quanto praticamente vengono a scombenarsi tutti gli orari di arrivo, partenza e consegna di Poste e tante litigie tra autisti e direttori d'ufficio postale e quant'altro con conseguente sanzione nei nostri confronti e nei confronti degli autisti. Questa richiesta mia viene neanche guardata in quanto praticamente l'Appartante mi dice di non creare casino in posta per ora in quanto i dirigenti praticamente siccome c'erano i 9 a parte stavano studiando per come fare 9 a parte e praticamente non dovevamo disturbarle, avremmo rischiato che loro internalizzavano tutto e che noi di conseguenza perdevamo il posto di lavoro. Il sindacato a proposito scrive un'avvertenza che mi manda via email, mi dice che praticamente questa avvertenza contro poste italiane è stata inviata sia alle ditte appartanti, sia a Polo Treveneto, sia a tutti gli uffici postali e tutti gli uffici competenti, invece questa avvertenza non viene mai spedita, in quanto ho anche registrazione di ciò, in quanto l'appartante mi dichiara a me che ha parlato con la sindacalista dicendo di non rompere le scatole agli altri dirigenti delle poste italiane in quanto stanno preparando gli apparte e non dobbiamo disturbarle. Questo è quanto insomma l'è stato detto, quindi lei a questo punto fa delle lettere anche pubbliche? Sì sì, ho fatto i volantini, praticamente l'ho divisa per tutta Verona e provincia in tutti gli uffici postali, postini, impiegati e tutto. E chi è che ha avuto, che riscontro ha avuto? Il riscontro è stato strano, invece di, perché praticamente io in quelle lettere, li ho anche offesi presentamente, li ho preso per pallone confiati anche i dirigenti, li ho minacciati di ricorrere alla legge, a tutti gli organi che con la legge potevano sistemare le cose, invece di rivoltarsi contro di me praticamente mi offrono mare e monte. Cioè ha un effetto contrario, un modo da farla stare zitta praticamente. Sì, praticamente io in quella lettera do le mie dimensioni come responsabile. Gli dico che continuo a fare l'autista e come autista pretendo che vengano applicate tutte le leggi esistenti sia di contratto nazionale come contratto collettivo sia per quanto riguarda codice civile, codice del lavoro. A questo punto vengo contattato dall'appartante tramite i suoi brecci d'essere di Venezia, sia dal sindacato e sia dagli altri dirigenti dei posti italiani, in quanto mi viene offerto di sedermi al loro tavolo per fare discorsi grandi, però io dovevo smetterla di rompere le scatole. Io rifiuto tutto ciò in quanto l'unico mio pensiero era lavorare tranquillamente, far lavorare i miei autisti tranquillamente, a norma. Cioè non volevo niente di più, niente di meno. Quello che il lavoro richiedeva. Lavorare. Volevo solo lavorare tranquillamente in regola. Invece praticamente insomma lei è venuto diciamo così a conoscenza inconsapevolmente di quello che è un sistema che può essere un sistema anche corrotto. Attualmente ecco da notizie che lei ha, che sono in suo possesso, questo sistema sta continuando, continua ad essere? Certo che continua. Mi è stato detto all'inizio, quando ho iniziato e l'ho concentrato con la mia pelle, perché praticamente il 5 ottobre ho avuto un incontro con il precedesso diciamo dell'appartante, in cui tutte e due mi dicevano praticamente che era inutile mettermi contro l'appartante in quanto era praticamente molto legato a livello politico, in quanto nipote dell'ex capo della polizia Ferdinando Masone, l'ex capo dei servizi segreti che è morto da qualche anno. Praticamente loro è 30 anni che hanno l'apparto su Venezia come monopolio a parte di poste italiane e che praticamente oltre a questo personaggio diciamo che influiva tantissimo anche se non c'era più, praticamente anche tutti gli appartanti del centro sud Italia erano legati a un noto personaggio che non posso fare il nome, ma lo farò sicuramente all'autorità giudiziaria in quanto ciò. Personaggio politico. Un personaggio politico molto importante. Che è stato anche ministro della giustizia. Anche ministro. Che è stato anche ministro della giustizia. Bene, quindi alla fine un po' di tutta questa vicenda, ancora ci saranno, continueremo questo racconto fino a quando si interrompe il rapporto e cosa succede anche dopo, però la cosa che le voglio chiedere, Carbone è questa. Che idea si è fatta di questa Italia? Italia dove si può delinquere pur avendo coperture politiche e anche coperture diciamo così istituzionali perché qui ci sono carabinieri che l'hanno contattata, servizi segreti o così si sono spacciati persone addirittura che le hanno anche millantato credito dicendo che le offrivano un posto di lavoro pur di insomma togliersi. Sì, quello era per sviarmi. Ecco, per toglierla insomma, per togliere il problema. L'avrebbero offerto anche Mario Monti diciamo. Sì, ma non direttamente loro. Praticamente hanno creato una situazione tale in quanto io ero amico di un personaggio politico, ma così a livello d'amicizia, non a livello perché non mi interessa la politica nel senso di destra o di sinistra, io ho un'altra idea di politica. Praticamente mi viene offerto da questo politico, senza che io ho chiesto niente, praticamente mi viene offerto, non so per quale santo, un posto in ferrovia. C'è un amico praticamente che è un altro funzionario di ferrovia italiana. Dice, se vuoi, tu e l'amico tuo, un autista che lavorava con me. L'offerta è partita per l'altro autista, per invogliarmi a me di conseguenza. Certo, ti vado a sviare un po' tutta la vicinanza. Dice, siccome abbiamo scedoposti in ferrovia, se vuoi puoi andare direttamente a Palermo a prendere servizio. Dice, se ti interessa, parliamo direttamente con questo altro funzionario e gli diamo il documento e lui fa tutto. E ho detto, se c'è questa possibilità, perché no? Parliamo con questo funzionario, si presenta questo funzionario, Giubbottino RFI, con etichetta RFI, si presenta come altro funzionario di ferrovia italiana. Gli spiego come funziona il fatto, se devo fare concorso o non concorso, se hai per colloquio, non si capisce bene come... Dice, no, tu devi presentare una domandina, la domandina la presenti direttamente a me. Siccome io faccio parte della commissione che valuterà le domandine per quanto riguarda le assunzioni, tu stai tranquillo che ti dici tu e l'amico tuo praticamente andate a Palermo dove volete voi. Ah, pure la destinazione. Sì, sì. Cosa che poi è risultata totalmente falsa. Di cui tra l'altro ho fatto anche denunze all'autorità competente per mille l'antato credito e per... Perché è arrivato a un certo punto, quindi il rapporto di lavoro che lei ha lavorato con questa società appaltante di poste italiane si interrompe. In quale data siamo quando si interrompe il rapporto? Quando dà la dimissione. Quando dà la dimissione. Praticamente il modo che si arriva alla dimissione è questo, è praticamente dopo che io ho lamentato il tutto e ho detto pubblicamente che lì denunziavo, nel frattempo stavo anche collaborando con la Guardia di Finanza. E con l'ispettorato del lavoro che aveva anche denunciato. Ho fatto denuncia all'ispettorato del lavoro in quale mi hanno consigliato di fare un esposto non molto lungo che poi avrebbero fatto tutto loro e invece alla fine non hanno fatto completamente niente, anzi ho dovuto denunziare con denunzia querela sia il direttore dell'ispettore del lavoro sia l'ufficio di vigilanza e l'ispettore Palumbo anche per diffamazione in quanto praticamente essendo pubblico ufficiale ho trovato una lettera agli atti della denunzia che poi ho fatto in procura in cui questo pubblico ufficiale dichiara al pubblico ufficiale ministro Guido Papalia e Schienaia che praticamente quello che dice Carbone Francesco non è da prendere in considerazione in quanto dubita, però gli rimangono dubbi in quanto non fa né denunzia contro De Me per calunnia, non fa denunzia contro De Me per farsa dichiarazione pubblico ufficiale, non fa alcuna indagine ispettiva però comunque dichiara che Francesco Carbone è inattendibile, ho fatto anche denunzia all'USL fornendo anche foto, video e varia documentazione alle dirigenti dell'unità sanitaria locale, sezione Spisal, dottoressa Lelle e dottoressa Perruzzi, praticamente anche loro all'inizio mi hanno fatto fare un minimo esposto, poi ho fatto un esposto dettagliato in quanto loro per un minimo esposto hanno fatto minimo ispezione, ho fatto una denunzia successivamente dettagliata punto per punto di tutte le carenze sia sulla sicurezza sia per quanto riguarda l'igiene, gli ho fornito anche foto e video che non hanno preso in consegna, le hanno solo visionate e basta, non le hanno volute prendere in consegna, praticamente hanno fatto minimo indagine, hanno accettato da parte della ditta appartante dei falsi documenti in cui ho dichiarato che i documenti consegnati dalla ditta appartante erano totalmente falsi, non sono stato denunziato né io per aver dichiarato questo né l'appartante per aver consegnato documenti falsi. Anche lì insomma non si è andato avanti? No, è qualcosa che si è mosso anzi, perché anche avendo fatto minimo dispezione, comunque proprio gli occhi totalmente non potevano chiuderle, comunque è uscita una denunzia penale nei confronti dell'appartante. Comunque è stata fatta una denunzia penale nei confronti dell'appartante ed è stata comunicata alla procura di Verona, era praticamente per violazione al modello sui rischi. Praticamente non c'era all'interno del servizio postale in apparto, non c'era né un responsabile alla sicurezza, non erano stati fatti mai corsi deformativi sulla sicurezza, non erano mai state date dispositivi di protezione individuale, praticamente la sicurezza e igiene non esisteva. Quindi a questo punto cosa succede? Quando si arriva alle dimissioni? Quando si arriva alle dimissioni? La dimissioni si arriva praticamente che nel frattempo avevo avviato con l'avvocato del lavoro, in quanto il sindacato completamente, pur pagandolo, non mi ha mai fatto niente, né farmi avere la qualifica di primo livello che mi aspettava di diritto, né farmi avere le paghe, le aspettanze passate, niente, completamente niente, pur pagando mensilmente io l'arretto al sindacato.